bella ragazzi bentornati qui sul canale di granadas e vi ho inculato l'intro yo madafucka bici e siamo qui con un nuovo episodio del rotto di vision one è la seconda terza partita nella nuova divisione la prima abbiamo persa per colpa sua la seconda l'abbiamo vinta grazie a me e niente stiamo facendo la terza partita speriamo di riuscire a vincere anche questa partita giocheremo in due perché veramente abbiamo capito come si gioca in due comunque giocheremo in due quindi questa serie da un tempo per uno è passata a due sempre vai pociolo i vecchi trapani eccolo subito perde palla e ora di nuovo gervinio non venire dove sto io capo io però è lo so parti di partire devi scattare voglio scattante e ora guardano covacic 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 ma perchè non passi il tiraccio al camadosca mamma mia moglie oddio quanto ho fatto vai e poi sei il rigore questa è una vero l'arbitro c'è una gran punizione è una gran punizione per covacic e c ma vaffanculo un buco e mezzo incredibile col camadosca ma bella di risultato mannaggia i trapani bella di risultato paulia non è soccorso il palazzo c'è credo u oggi evi oggi evi o destro non voglio eri o e tu fai mi attendi lo vedi a me in mezzo per oggi è passato ma che la prendi te oltai mamma 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 che trapano chi era il tuo trapano? metel metel cazzino un commentario uh uh mi avviani mi avviani il passaggio in mezzo ooooh mamma mia mamma mia il secondo tempo più agguerriti che mai vogliono una vittoria incredibile ora prenderanno gol é astuna non è vero eut sage varre questo è parte lispar meglio eeeh testa e cazzo furi gioco o lascerino adeptino o uc o uc o ucchi tempo pazzo dal luogo al radiologico acquattivate quadri club è stato detto che hai visto pascate tutti i buchi con calma è tutto politico alla casa per amore maicuracasi di viola ma io ho premio di elettore ma il generale papa via 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 e la cazzo vai da un'altra parte no mamma meno male che c'è lui fatti ha detto ma le cellule fuori tempo massimo fuori tempo massimo pino pino e poi inconcludi oltre la mia fuori gioco un pezzo del merda no gioca tu gioca mi raccomando oh è davvero un po' no vabbè dai cazzo 5 minuti almeno cercamo di pareggiare oh gervinio oh gervinio il trapano nero mangola guarda che culo guarda che culo devono fare ste cazzate in un video proprio oddio brutto tiro parca traia perdiamo una partita che potevamo tranquillamente vincere però fa niente io sono un cazzato nero quindi farò vedere l'altro niente noi ci becchiamo domani e se parca puntata non vinciamo esco da youtube ciao chau 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 .